Namaste, io sono Rossana e vengo da Milano, sono in questo meraviglioso posto facendo queste cure ayurvediche stupende. Cosa posso dirti? La natura è meravigliosa e ci nutre, questa natura di palme, di alberi e le cure, i terapisti sono stupendi, stupendi perché se vuoi prenderti cura di te devi venire qua perché c'è tutto, c'è il paradiso. La cucina è una cucina vegetariana, buona, ottima direi. C'è una piscina stupenda che guarda l'oceano, l'oceano è qui davanti a me. Cosa posso dire? I terapisti sono molto belli, bravi e è un posto meraviglioso. Davvero se ti vuoi bene e ti vuoi prendere cura di te ti consiglio ovviamente di venire qua perché è nutriente, è un posto che ti nutre, la natura ti nutre, la cucina ti nutre. E che dire, i bungalow sono molto carini e caratteristici ed è la seconda volta che vengo e ci verrò ancora negli anni a venire. Quindi io posso solo che consigliarlo. Grazie, ciao, namaste. Grazie.